Fratelli e sorelle bianconeri, salve a tutti, chiariamo una cosa, voglio chiarire una cosa perché dopo il video di ieri sono stato preso di mira da qualcuno che mi ha accusato per le parole su Del Piero, mi ha messo in dubbio, ha intaccato la mia juventilità e questo signori, chiariamolo, non lo permetto a nessuno di intaccare la mia juventilità e con essa la mia devozione a Del Piero che è sempre stata grandissima a tal punto che voi non potete nemmeno immaginare e per questo vi racconto un aneddoto, quando mia moglie era incinta non sapevamo fosse maschio o femmina e avevamo pensato fosse stato un maschio di dare il nome Alex, come hanno fatto vari amici miei carissimi con i loro figli maschi, pensate quanto era la devozione al nostro capitano, una vita in bianconero, sì avevamo pure il bavaglino che ho scritto Alex, tutto fatto, poi è venuta una femminuccia, non che mi dispiace, è la cosa più preziosa che ho al mondo, la mia principessa è la cosa più preziosa che ho al mondo e non la cambierei per nulla al mondo, però nel dubbio fosse maschio o femmina avevamo tutto preparato per chiamare Alex l'eventuale figlio maschio, questo per dirvi la mia devozione e non lascio dunque che nessuno metta in dubbio la mia juventilità, uno e due la mia devozione al nostro ex capitano, chiedo semplicemente un pochino di rispetto e di amore dimostrato in maniera diversa verso questi colori, benché ci siano state le famose becche con Agnelli, con altri dirigenti, le frizioni, forse pure con Edwed, non me ne fotte un cazzo, voglio semplicemente che Del Piero dimostri di avere a cuore questa maglia con i fatti, magari dentro di sé provoca, dentro di sé ha un amore smisurato, gli esplode forse un amore smisurato verso questa maglia, ma i fatti non me lo dimostra in tv o sui giornali o su Instagram, maledizione, io questo vorrei, chiedo troppo, chiedo troppo, chiedo troppo di avere un po' gli occhi lucidi nel ricordare qualche aneddoto, nel pensare a quella maglia, magari come fanno i vari Ravanelli, i vari Torricelli, come fa Betteca, come fanno tanti i nostri ex, come faceva la buranima di Anastasi con gli occhi lucidi quando parlava della Juve, guardate Montero, le dichiarazioni che fa ogni volta Montero, vorrei semplicemente qualche difesa in più in qualche moviola, come fanno i grandi ex delle altre squadre, guardate Mauro, due o tre anni sarà stato alla Juve, ma ci difende e vedo sempre questo andare contro anche nelle moviole, nelle dichiarazioni, nelle critiche, sempre piccante e piccato nelle critiche, maledizione, guardate i grandi ex capitani, guardate gli ex della Roma, del Milan, dell'Inter, guardate come difende la spada tratta, guardate Badistuta, le interviste di Badistuta, guardate, benché abbia finito la carriera in altre squadre, la Fiorentina è sempre nel suo cuore e lo dimostra nei fatti, non chiediamo tanto, chiediamo un pochino di difesa, soprattutto su certi temi caldi, come Calciopoli, Omo Violi dove c'è la famosa caccia alle streghe, c'è sempre quel distacco, un po' come fa Rivera nel Milan, pure lui per questioni politiche, società eccetera eccetera, questo distacco che francamente non capisco e mi dà un fastidio care, poi la devozione c'è sempre verso questo personaggio che ci ha rappresentato così tanto, ma Dio santo lo dimostri in qualche modo, perché il 25 su Instagram invece di fare il cazzeggiamento con Totti non faceva una bella diretta al ricordo di Andrea Fortunato, che è stato pure un suo compagno, è stato pure un suo compagno, altri l'hanno fatto questo ricordo, perché l'anno scorso, a settembre dell'anno scorso per il trentennale della morte di Gaetano Sirea, non lo ricordava, avrebbe fatto una bellissima cosa, una bellissima cosa, non mi pare che abbia ricordato i trent'anni dell'Eisel cinque anni fa e vediamo se quest'anno ricorderà a maggio i trentacinque anni dall'Eisel, queste cose chiediamo da una nostra ex bandiera, chiedo troppo, chiedo troppo, chiedo troppo, non dovrebbe avere questo distacco, poi la devozione ovvio che c'è, per questo dico a nessuno di mettere in dubbio né la mia juventilità né la mia devozione a un personaggio che ci ha rappresentato e al quale chiedo semplicemente un pochino di amore in più dimostrato sui giornali, in tv o sui social, punto. Detto questo, prima di lasciarvi un'ultima dedica al signor carissimo direttore Feltri, questa è dovuta, caro direttore Feltri, questa è per lei, una storiella, non si può dire una barzelletta, è una storia, una storia ambientata in paradiso dove ci sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Giovanni Falcone dice a Paolo, senti Paolo, e giù ci sta questo Feltri, questo pseudo direttore Feltri, hai visto che ha definito i meridionali inferiori, sono inferiori a loro, inferiore settentrionale, hai sentito? Paolo Borsellino risponde, ma guarda Giovanni che ha ragione, mi sa che ha ragione, Feltri ha ragione, se noi fossimo stati superiori a quest'ora, se fossimo stati superiori come lui, a quest'ora saremmo vivi, a quest'ora saremmo vivi, caro Giovanni, su quello che vi ho detto meditate gente, meditate, meditate, pensateci e meditate.